Frasi da dire per vendere qualsiasi cosa a chiunque. Mi raccomando, usale solo in modo etico e positivo, sono molto pericolose. Se in questo momento avessi una scatola con all'interno tutti i tuoi problemi più grandi e potessi sceglierne uno da eliminare, quale prenderesti e butteresti via dalla scatola? In questo modo, utilizzando una semplice metafora, potrai arrivare al punto più dolente del tuo potenziale cliente. Stai letteralmente abbattendo le sue difese emotive, portandolo a rivelarti la cosa che più lo mette a disagio. Conoscere questo aspetto per te diventa decisivo in termini di comunicazione, perché stai venendo a conoscenza del problema più grande che puoi risolvere. Ed ecco che a quel punto...